E ciao a tutti ragazzi e buoni di questo nuovo video, chi sono io? Io sono Moreno, sono sempre io raga, il vostro amicone Oggi parleremo di sessorale e malattie sessualmente trasmissibili Prima di iniziare ragazzi lasciate like, commentate e condividete questo video Il sessorale non viene associato a malattie sessualmente trasmissibili ragazzi, ma in realtà è una fonte primaria E ovviamente noi andremo ad approfondire questo argomento Praticando sessorale non protetto potrebbero essere trasmesse malattie sessuali Iniziamo con la fellatio, ovvero la simulazione del pene attraverso la bocca Durante questa pratica ragazzi il pene andrà a contatto con la bocca, la lingua di lei o di lui comunque Anzi c'è, ci entra, ci entra proprio dentro, ci entra Durante questa pratica ragazzi il pene viene introdotto più volte dentro la bocca di lei o di lui Fino a quando non eiacula E ovviamente la eiaculazione può venire dentro o fuori dalla bocca Nel primo caso ragazzi accade che lo sperma vada a contatto con le mucose della bocca Ovviamente ragazzi attraverso lo sperma di una persona malata si possono contrarre malattie infettive ovviamente E prima di tutte c'è l'AIDS Come si possono prevenire diciamo queste malattie ragazzi? Beh si possono prevenire usando protezioni Ora ragazzi passiamo al cunnilingus E cosa sarà mai il cunnilingus? Ovviamente la simulazione della critoride con le labbra o con la lingua dell'uomo La prima controindicazione ragazzi è il ciclo mestruale Ebbene si ragazzi perché le femmine hanno il ciclo? Per chi non lo sapesse Qua un critino Non occorre infatti che il flusso mestruale sia abbondante ragazzi Bastano poche gocce per trasmettere l'HIV Quindi ragazzi mi raccomando sesso protetto in tutte le occasioni Se non volete fare sesso protetto Pazzi vostri Comunque ragazzi mi raccomando al solito commentate condividete Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti